Musica Perché tutta l'idea di questo progetto parte da un principio, rimanere concentrati sul nostro presente in realtà significa fermarsi e rendere ancora più grave e difficile la situazione che stiamo straversando che tutti stanno attraverso Bene, stasera presentiamo il nuovo sito di Friuli Future Forum, un percorso che è iniziato già da ormai tre anni ed è un percorso che vuole ridisegnare un po' la promozione del nostro tessuto economico e il sito che è un nuovo contenitore, è un hub di tutte quelle che sono le iniziative che si inseriscono all'interno di Friuli Future Forum ma che vuole essere interattivo con quelle che sono le dinamiche delle nostre imprese è il primo tassello di un percorso che si è rinnovato e che vuole essere più vicino alla nostra economia alle nostre imprese frulane quindi stasera facciamo questo battesimo lo inauguriamo con tanti amici del consiglio camerale, della stampa televisiva, della carta stampata augurandogli non al sistema camerale ma a Friuli Future Forum di essere proattivo in un momento difficile e complesso per l'economia frulana come quello che stiamo vivendo Una domanda ancora solo per capire come è stato sviluppato il rapporto di rete anche con le altre istituzioni del territorio che fanno innovazione Sì, molto importante che non è un progetto autoreferenziale ma abbiamo esteso proprio in un concetto di network una serie di collaborazioni con l'università, con l'associazione di categoria con le strutture del mondo della ricerca, con le strutture del mondo dell'economia quindi tutti quelli che sono gli interlocutori, non solo imprenditoriali ma anche che seguono la vita socio-economica del nostro territorio sono nostri partner questo è un fattore che ritengo positivo, innovativo in quanto il concetto di economia è sempre più allargato ed integrato a quella che è la vita di ogni giorno dove ognuno può portare un po' del suo sapere, un po' della sua conoscenza e dare un contributo ad un nuovo modello di sviluppo economico all'interno della nostra regione, all'interno del nostro territorio all'interno della nostra regione, all'interno della nostra regione